Al mio 3 un'imitazione del grande Zino Zoffo, il personaggio per eccellenza appartente al mondo del calcio allenato. E' un video omaggio di stima e di emiliazione nei suoi confronti, bando alle ciance, 1, 2, 3. Si, posso dire con tranquillità che la mia strada per quanto riguarda il calcio è tutta stata in discesa, ho avuto difficoltà, all'inizio sicuramente ci sono, ma queste difficoltà spariscono subito dopo in quanto riesci a riprendere in mano la tua vita, la tua storia, la tua situazione e soprattutto ricapisci che quel che puoi fare lo fai con il cuore e soprattutto senza rimpianti e senza averne avuti mai nel corso della mia vita. Ho sempre dato quel che potevo per quanto riguarda anche il rischio di calcio che ho gestito, che ho allenato. Non ho avuto problemi, non ho avuto peri sulla lingua, anche l'Italia penso che abbia dato il suo. Noi come compagine calcistica, come compagine diciamo così per quanto riguarda il mondo del calcio abbiamo dato un impulso, un sano impulso per quanto riguarda quello che potevamo fare. Certo ci sono difficoltà, quelle chi non le ha sono difficoltà oggettivamente visibili per quanto riguarda il calcio, anche perché il calcio attualmente sta attraversando un periodo difficile, un periodo complicato, duro, drammatico. Non se ne può più insomma, ripeto abbiamo provato quel che si può fare, però è sempre complicato capire e arrivare a un punto di svolta per quanto riguarda il calcio giocato e soprattutto il calcio allenato da me il medesimo Dino Zoff. Questo è quel che penso, ringrazio signor Pizzul per l'intervista che mi ha rilasciato. Se ho qualche rimpianto, signor Pizzul, beh sicuramente il fatto di voler fare troppe cose senza poter puntare su elementi di svolta. Ho sempre dato il meglio, ma non ho mai puntato su quel che potevo fare in maniera più suppletiva e soprattutto cercando di raccogliere in mano le situazioni che mi si presentavano davanti. Quello è un mio rimpianto, sono sincero, potevo applicarmi di più per quanto riguarda il calcio allenato, mi sono fermato lì dove stavo, dovevo portare un risultato migliore, ma ciò non si è verificato e non è un problema comunque. Questo è quanto, la ringrazio signor Pizzul, una buona serata a lei e grazie per avermi intervistato oggi in questa sede. Questo è il video, vi ringrazio questa invitazione, spero vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale, commentate, un saluto da Leandro Conoscitore Italiano.